Medicina di precisione, ruolo della genetica nella caratterizzazione dei pazienti, apporto dell'intelligenza artificiale nel mettere insieme le diverse variabili per una valutazione multiparametrica dei malati. Sono alcuni temi al centro del simposio internazionale Advances in Heart Failure, Cardiomyopathies and Pericardial Disease, focalizzato sulle cardiomiopatie e lo scompenso cardiaco e organizzato nelle giornate di venerdì e sabato. L'iniziativa è promossa dal Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e dalla Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Cardio Vascolare del Dipartimento Scienze Mediche, Università di Trieste, con la Fondazione Menarini. Sono circa 250 gli iscritti con la partecipazione di relatori da tutta Europa e dagli Stati Uniti per un focus sulle conoscenze più aggiornate generate in questi ultimi due anni e mezzo in cui gli scambi sono stati minori. Le cardiomiopatie, spiega Gianfranco Sinagra, direttore della struttura complessa di cardiologia a Trieste, sono malattie che colpiscono soggetti mediamente giovani e che possono richiedere terapie avanzate fino ai supporti meccanici e il trapianto cardiaco. Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, sono circa 2 milioni le persone in Italia che ne soffrono. Nell'area di Trieste e Gorizia ogni anno vengono ricoverate 2 mila persone con questa patologia. L'incontro di oggi richiama l'attenzione sul fatto che l'inquadramento più preciso possibile del malato dal punto di vista delle cause della sua cardiopatia, la rivalutazione dinamica del paziente, l'utilizzo, come si dice, multiparametrico di tutte le informazioni disponibili, l'apporto della genetica, l'apporto della caratterizzazione del tessuto con la risonanza magnetica, l'apporto dell'intelligenza artificiale nel mettere insieme tutte queste informazioni può farci caratterizzare per una medicina di precisione al meglio i malati per curarli nella maniera più specifica, più efficace e proiettata più a lungo possibile. La storia della cardiologia triestina non ha bisogno delle mie presentazioni e prova ne sia che questo evento internazionale porti qui molti esperti, molti scienziati, molti ricercatori e quindi sarà l'occasione per valorizzare la grande esperienza, la grande casistica che la struttura triestina guidata dal professor Sinagra si distingue nel tempo e sicuramente sarà in grado di produrre ulteriori risultati mettendo a disposizione sicuramente delle tecniche e delle soluzioni che consentano sempre migliori risposte di cura. Gli scienziati dobbiamo fargli lavorare e dobbiamo soprattutto credere alle cose che dicono non mettendo in discussione e assistendo a balletti come quelli che purtroppo ci hanno visto, abbiamo visto purtroppo nel corso di questi due anni.